I finanzieri del Comando Provinciale di Taranto hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per equivalente di beni immobili e immobili e disponibilità finanziarie per un ammontare complessivo di 2 milioni e 115 mila euro nei confronti di un imprenditore tarantino operante nel settore della fabbricazione di porte, finestre e cancelli metallici. Il provvedimento cautelare emesso dal GIP Pompeo Carriere su proposta della locale procura della Repubblica segue una verifica fiscale eseguita dalle fiamme gialle del nucleo di polizia tributaria all'esito della quale è stata constatata la sottrazione alla tassazione di ricavi per 9 milioni di euro e un'evasione di IVA per 3 milioni di euro. Le indagini svolte hanno consentito di segnalare all'autorità giudiziaria per violazioni tributarie oltre all'imprenditore anche i titolari di 12 imprese operanti nel settore metallurgico con sede a Taranto e in altre città della provincia che hanno utilizzato fatture false emesse in loro favore dal medesimo imprenditore per un ammontare complessivo di 11 milioni di euro. Nel particolare è stato accertato che i titolari delle imprese corrispondevano gli importi relativi alle fatture false con assegni bancari accreditati sui conti correnti intestati all'imprenditore ricevevano indebitamente in contanti la restituzione dell'importo riferito a ciascuna fattura falsa decurtato di una somma corrispondente all'IVA più l'illecito compenso pattuito come tornaconto dell'imprenditore promotore del sistema fraudolento.